buongiorno ragazzi se anche voi volete rimanere sempre aggiornati sui video dei bancomatti iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video inoltre i bancomatti hanno aperto anche un canale telegram basterà scaricare la app e digitare bancomatti nel cerca troverete il nostro canale mi raccomando iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sulle nostre bombe di mercato amazon grazie e buona visione ciao amici buongiorno bentornati sul canale dei bancomatti sono amici e vi do il benvenuto allora oggi a tu per tu voglio proprio parlarvi di una bella iniziativa dove si spende ma si recupera precisamente tutto quello che abbiamo speso avete capito bene non ci sono fregature non ci sono balle si ricopre da tutto tramite dico la soluzione più semplice tramite iban c'è una piccola procedura da fare ma adesso la vediamo insieme corriamo allora 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 oggi posterò anche il link del video su youtube qua sulla pagina dei bancomatti spostiamoci un secondo la promo è la seguente si chiama puliti e ripagati acquista 15 euro di prodotti e ti rimborsiamo 15 euro precisamente quindi a posto 0 esce 15 euro ma rientra sotto forma di volito prendete le marchi e le marche coinvolte sono finish sole airwik napisan kygon e vanish spaziamo un po tra tutti i vari prodotti vi invito a sbirciare questo articolo che scritto il nostro amico francesco di sconto maggio l'articolo lo trovate sotto a questo video adesso sbirciamolo insieme allora prima di tutto promo precisamente attiva dal 14 di gennaio fino al 20 di febbraio abbiamo in circa un mesetto per partecipare spendi 15 euro e ti rimborsano 15 euro le mani che l'abbiamo citate prima ok scopriamo come dove partecipare all'operazione a cashback puliti e ripagati allora vi dico vi consiglio di partire dall'articolo di francesco perché alcuni punti vendita sono aderenti in iniziativa e altri no per scoprirlo dovete cliccare qua prendete anche amico francesco ci invita a schiacciare questi punti vendita aderenti cliccate qua e vengono fuori praticamente tutte le catene che aderiscono fate attenzione bene leggete bene ok preciso la prova è davvero davvero facile quindi come da regolamento entro tre giorni dall'acquisto vai sul sito dell'operazione premi e registra i tuoi dati e quelli dello scontrino caricandone anche un'immagine segui quindi le indicazioni per completare la tua richiesta io vi dico personalmente parteciperò poi se la tua partecipazione sarà validata entro un termine massimo di 180 giorni meno male arriva di solito anche prima però le tempistiche sono queste circa sei mesi riceverai un bonifico bancario di 15 euro allora ci sono delle cose che vi devo dire soprattutto perché i coupon utilizzare il coupon è un vostro rischio perché leggendo bene il regolamento analizzandolo con il nostro amico PR se utilizzate esempio un coupon da 10 euro loro vi rimborsano solo 5 euro della promo perché il regolamento dice proprio così quindi io vi consiglio pagate pulito che tanto vi rientrano ok si può partecipare una ogni persona può partecipare una volta e può ricevere un unico imborso qua la cosa bisogna stare un attimo attenti perché anche chi è cointestatario di un conto corrente vi consiglio occhio piuttosto chiedete io fortunatamente ho 900.000 conti corrente quindi a voglia non ho problemi no scherzo anche mi trovo in quella situazione ogni volta se non è ben citato devo comunque scrivere al gestore del concorso però vabbè poi lo sbirceremo bene nel regolamento comunque se avete domande se avete risposte commentate il video e fate leggere i pollici come detto prima la promo parte dal 14 di gennaio e termina il 20 febbraio 2019 è una bellissima e buonissima occasione per iniziare a fare un po di scorta da scaffale giusto le cosine che ci servono o se volete prendere qualcosa di più per dare una mano a qualcuno ben venga o istruire anche qualcun altro a questo mondo che lì siamo sempre accetti tutti quanti allora amici con questa bellissima promo vi ripeto vi lascio tutti i link qua sotto come al solito vi invito a cliccare il pollicino e a lasciarcelo poi a parte questo a seguire sempre le live dei bancomatti che a random arrivano no per lo più venerdì o sabato intorno 10 e mezza 11 poi vabbè se c'è qualche altro scoop o bomba il bancomatto ripetitore si accende al volo allora vi ringrazio come sempre un cashback dai bancomatti un saluto ad amici da fuzger e da tutta la banco famiglia ciao e grazie per essere arrivato in fondo a questo video se clicchi sul pulsante qua di fianco attivi l'iscrizione e clicchi sulla campanella noi bancomatti saremo sempre felici di avvisarti su una nuova un nuovo episodio una nuova promo o un'altra modalità per risparmiare rimani con noi ciao